Mondo del lavoro e autismo, due universi che si incontrano nel progetto di inclusione Working School presentato a Iesi. Un'idea realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle Disabilità, nell'ambito del programma provinciale In and Out, di cui l'ASP Ambito 9 è capofila per la provincia di Ancona, a frequentare il corso Adolescenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Ci siamo resi conto nel tempo di un bisogno crescente, abbiamo fatto un tracciamento dei dati legati all'autismo e ci siamo accorti nel 2023 che a fronte di 104 utenti con diagnosi di autismo, 88 erano riguardanti ragazzini in età scolare, quindi ragazzini che potenzialmente nel tempo, nel breve periodo, potrebbero uscire dal percorso scolastico e quindi da lì ci siamo interrogati per cercare di capire che cosa, finito il ciclo scolastico, avremmo potuto offrire loro come percorso di vera inclusione e autonomia. L'obiettivo finale della Working School, infatti, è permettere ai ragazzi una reale inclusione nel mondo del lavoro, passando per diverse fasi, dalla valutazione delle competenze iniziali, fino all'insegnamento delle abilità in un contesto controllato, un inserimento di prova in azienda e, alla fine, l'inserimento definitivo. Queste aziende hanno fornito anche del materiale alla Working School, materiali di scarto e non solo, su cui noi effettivamente lavoriamo con i ragazzi per insegnare l'utilizzo del calibro, piuttosto che assemblare delle piccole parti. Mio figlio ha 17 anni e frequenta la Working School già da alcuni mesi. La mamma, lei pensa che sia utile questo progetto? Allora, sinceramente sì, nel senso che è ben strutturato, secondo dei bisogni reali, secondo delle attività molto concrete, che sono effettivamente quelle che magari possono essere richieste da alcune aziende, organizzate per step con una modalità del tutto concreta.